Nasce Brande Marche, il nuovo polo per promuovere l'enogastronomia marchigiana nel mondo. Il progetto multifiliera, primo del genere realizzato in Italia, affidato all'Istituto Marchigiano di Enogastronomia, mira a mettere al sistema attraverso un unico brand di prodotti di alta qualità del nostro territorio. Obiettivo diventare a partire dall'Expo piattaforma e punto di riferimento per scuole, istituti alberghieri, imprese e ristoratori, ma anche produttori, operatori turistici e organizzazioni ed enti. Il nuovo polo enogastronomico è stato presentato presso la sede della Regione Marche da Alberto Mazzoni, direttore dell'Istituto Marchigiano Tutte Ravigli. Il mondo agricolo ancora una volta ha dato dimostrazione di coesione, di forza, di intelligenza, oltre che all'ingegno che abbiamo già sul territorio, perché ha capito che stare insieme, fare squadra, poter promuovere in un unico contenitore tutto quello che sono le eccellenze gastronomiche ed etnologiche della nostra terra, significa ovviamente avere un valore aggiunto per quanti lavorano su questa terra. Il tempo impiegato per costituire questa società? Abbiamo impiegato tre anni a costituire questa società che è importantissima, una società che nasce con una legge regionale, una società che nasce con il contributo di tutte le organizzazioni professionali, una struttura che nasce mettendo insieme pubblico privato, una struttura che nasce con tutti gli attori, i protagonisti sul territorio che fanno progetti di filiera, dal latte alla pasta, al vino e così via, fino all'oliva tenera scolana. Chi sono gli attori di questo polo? Gli attori di questo polo sono tutti quanti i produttori che raccolti in consorsi, o probabilmente in progetti di filiera, in questi ultimi dieci anni hanno investito nella campagna, hanno investito nella tecnologia e hanno investito nella promozione, perciò già cose consolidate, strutture consolidate e forti, raccogliamo oltre 3.000 produttori che sul territorio regionale coltivano le terre e ci danno la possibilità di vedere queste spalle delle colline, perché grazie al lavoro di loro che fanno nei campi, noi possiamo apprezzare queste bellezze territoriali. E no gastronomia e vino o un mixer vincente? Ha un cluster fondamentale per le marche, perché stare insieme vino e cibo sono una copiata vincente, perché siamo sicuri che possiamo lasciare un ricordo a chi consuma questo prodotto, ci permetterà di fare incammica, ci permetterà di invitare qui gente, ci permetterà anche di proporci in modo coeso, forte e deciso un mercato internazionale che oggi non guarda solo il prezzo, ma ha bisogno e consumatore della tracciabilità, della conoscenza e della provenienza e perciò noi tutto questo siamo indice di garanzia assoluta. Un polo aperto a tutti? Le porte sono aperte, potranno entrare tutte quante quelle strutture e quelle associazioni, consorsi che hanno praticamente un progetto, che sono un'associazione che hanno soffritto praticamente dei finanziamenti regionali e che vogliono praticamente investire nella comunicazione e nella promozione di questo prodotto. Un polo che nasce ad hoc anche in vista dell'Expo 2015? Sarà il nostro battesimo, sarà una grossa sfida che vogliamo portare avanti, ci presenteremo con l'agroalimentare, si presenterà praticamente con questo polo perché raccogliamo praticamente tutto il territorio regionale di tutti quelli che fanno praticamente prodotto certificato di primo e di secondo grado perché la garanzia della provenienza oggi è determinante per far sì che il prezzo al consumatore sia equo ma nello stesso tempo sia remunerativo per i nostri viticoltori e produttori agricoli. La vostra è una società pubblica privata dove l'Istituto Marchigiano tutela vini al 95% e il 5% è il comune di Iesi. Ovviamente abbiamo dentro tutti i progetti oggi di filiera esistenti, dalla pasta al latte praticamente alla carne, tutto il prodotto bio, tutti i prodotti STG, perciò tutto il marcio QM qualità. Noi siamo aperti a tutti questi produttori che hanno questi progetti, che vogliono collaborare con noi, perciò insieme per vincere la sfida della globalizzazione. Cosa significa per la città di Iesi questo progetto multifiliera? Per la città di Iesi praticamente significa che abbiamo recuperato dei locali praticamente dove la regione aveva fatto gli investimenti negli anni 90 abbastanza pesanti a livello di investimento economico, perciò abbiamo recuperato due strutture, abbiamo recuperato praticamente questo palazzo Baleani oltre una struttura del 1700 ma agli Iesi costruiremo anche un'enoteca didattica e una fattoria che ci servirà proprio per dimostrare e portare lì tutte le scuole della regione Marche che andiamo dalla quinta elementare alle scuole superiori per far capire ai giovani cosa significa l'agricoltura, come si produce, come si ottiene un prodotto e nello stesso tempo quali sono le fondamentali realtà che oggi fanno crescere il territorio perché l'agricoltura più che mai oggi è diventato un business importante per la nostra regione. Non vi fermate qui? No, cerchiamo di crescere perché chi si ferma è perduto ma in tutto questo discorso devo dire che l'università, la facoltà di economia dell'università è importantissima in questo passaggio perché grazie all'università, grazie alla collaborazione come pattern della Banca Popolare di Ancona e su Genus riusciamo a mettere insieme pubblico privato ma anche un sostegno al mondo agricolo che ha investito in questi anni nel mondo del vino oltre 10 milioni di euro. Massimo Bacci, sindaco di Egeco, questo nuovo Brandmark è una grande opportunità per promuovere il territorio ma soprattutto i prodotti di qualità? Io credo che sia un'opportunità intanto straordinaria per la nostra città che ospiterà il Polo, è un, viene fatta la promozione di un brand fortissimo che è quello dell'Eno Gastronomia regionale, Iesi è pronta, tra l'altro farà parte perché è parte integrante della società che gestirà il Polo, siamo pronti per noi, ripeto, è un'opportunità straordinaria anche per attrarre ovviamente turismo a Iesi, dunque noi siamo pronti e confidiamo molto in questa attività. Gastronomia e vino ha un mix vincente? Credo che per le Marche sia assolutamente un mix vincente, un brand su cui assolutamente lavorare, la promozione di questo brand deve essere spinta al massimo, io ho riconosciuto prima in sede di intervento fatto in conferenza stampa il ruolo svolto dalle Marche, in particolare da questa amministrazione, all'attuale verso l'internazionalizzazione delle imprese dell'Eno gastronomia e non solo perché credo che sia stata una scelta fondamentale per tenere un po' gli effetti di questa crisi che è fortissima. Confidate in altri soci? Confidiamo in altri soci, ovviamente più siamo e credo meglio è perché saremo più forti. Gian Mario Spacca, Presidente della Regione Marche, un progetto importante che mette tante energie, un progetto che rende sempre più protagoniste le Marche? Sì, è un progetto che mette insieme tante energie consentendo loro di mantenere l'identità, il rapporto stretto con il territorio e l'ambizione alla qualità di ciascun progetto ma poi crea una rete, una rete dove si mettono insieme servizi e competenze soprattutto nella prospettiva dell'internazionalizzazione. Non si può negare che oggi le uniche opportunità di crescita siano sul mercato internazionale, sui mercati più lontani, al di fuori del nostro Paese, quindi questa modalità diventa strategica per dare prospettive di successo a ciascuna impresa, a ciascuna attività. È una modalità l'organizzazione in rete, la crescita dei sistemi che noi stiamo sperimentando in ogni settore, dai servizi alle istituzioni, la fusione dei comuni, la collaborazione tra più realtà territoriali, tra attività sociali e quindi anche maggior ragione tra attività economiche che ci può portare nel futuro. È indispensabile unire le forze per raggiungere certi traguardi? Non c'è altra strada, purtroppo le dimensioni con cui abbiamo a che fare sono enormi, sono le dimensioni al mercato globale, la selezione dei segmenti di mercato richiede una capacità di collegamento su reti molto lunghe, se tu vuoi essere protagonista in queste dimensioni devi necessariamente avere questa tipologia di organizzazione. Molto importante che gli operatori, imprenditori in ogni settore dal vino alla carne, dal latte ai formaggi, dai tartufi, ai funghi, a tutte le forme ma anche a tutte le attività dell'enogastronomia abbiano compreso questo e pur mantenendo le loro specificità e quindi il rapporto forte col territorio, si presentano in maniera collegata in rete appunto, soprattutto utilizzando il web sul mercato globale.